Cosa c'è? Cosa c'è oggi? Oggi c'è una cosa bellissima! Abbiamo questo Pinocchio alto e poi abbiamo questa cornice. Chi ci ha portato questa roba? Io te lo dio subito chi c'è dietro alla cornice. Un ospite eccezionale, sai come si chiama? No, dimmelo! Gabriele Maselli, buongiorno! Piacere, sei il nostro ospite, benvenuto! Grazie, mi fa molto piacere! Cosa sono le cornici in pastiglia? Le cornici in pastiglia sono cornici in legno, come tutte le cornici, dove sopra, faccio esempio su questa, dove al posto di questo motivo, cioè questo motivo viene fatto in gesso. Ci sono degli stampi, degli stampi rigidi, possono essere anche morbidi, ma quelli sono degli stampi rigidi, dove te prima prepari gesso, un gesso diciamo molle, molle, diciamo c'è una densità particolare, che lo lavori, lo impasti, lo applichi dentro questo stampo, è come se facessi delle formine, io faccio dei cilindrini grossi in base allo stampo, li metti dentro, li lavori e poi dopo lo sformi. Quando l'hai sformato aspetta un attimino e poi affresco, io faccio così, affresco le applichi sulla cornice. Ma non si parla di medicina quando dico in pastiglia, in farmacia? No, 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 continuarebbe un pochino a gola, quella la digerisci ma... Ma le cornici le fai tutte dorate? Le cornici si possono fare come vuoi, si possono fare a legno naturale, si possono fare dorate, si possono fare argento, si possono fare... Rame. A colore, rame, bronzo. Ora sta dicendo delle cose, guarda, innovative, ti dico perché, perché ultimamente stanno chiedendo veramente delle... c'è il filone, c'è il filone veramente, questa è una domanda da Interior Design, mi sta facendo, perché ora c'è questa grossa richiesta di cornici in confinitura o in ottone o in rame o in bronzo. Mi spieghi perché hai aperto il laboratorio di Geppetto? Perché? Bella domanda. Perché? Non lo so nemmeno io, devo dire, mi sono trovato dentro quest'estate. C'è l'estate scorsa in San Lorenzo, perché io ho un negozio in Via Genori e quindi l'associazione di Carlo Lorenzini, di cui il Presidente, il nostro Presidente dell'On. Monica Baldi, mi chiede se volevo partecipare a questo evento. Io non conoscevo, perché Carlo Lorenzini è nato a Via Tandea, tutto questo per rivalorizzare il quartiere San Lorenzo e dare visibilità a Lorenzini. Appunto mi chiede, dice, guarda, dice, vuoi fare qualcosa? Qualcosa cosa? Le ho messo e mi chiesi se c'era nessuno che faceva Pinocchio, Pinocchio in legno, le ho messo e non l'ho fatto nessuno. Hai fatto un Pinocchio alto 70 centimetri? E questo, sì, è questo, vedi? Ce lo fai vedere? Con piacere. Questo vedi, può stare o in piedi così, o in piedi, o se no lo puoi mettere seduto, o con le gambe dritte, o altrimenti seduto con le gambe piegate. Poi, come ti dicevo, è tutto legno, a parte le parti sotto, che sono delle scenerie. Io non volevo fare un Pinocchio classico, questo è già visto. I Pinocchio, quelli, diciamo, che trovi in commercio, quelli vecchi, hanno tutto un elastico interiore che è legato poi alla testa, insomma, una cosa un po' già vista. Mentre invece questo qui, appunto, è in 24 pezzi, tutti fatti a mano, tutti torniti e tutto smontabile, vedi? Ah, tutto smontabile. Questo lo puoi smontare tutto, volutamente. Allora, guarda cosa sta arrivando. Il caffè, accidenti. Scusa Manselli, ma sta arrivando il caffè, questo significa che siamo in chiusura, è ora di chiudere, ma posso fare un'ultima domanda? Mi piacere, per me è tutto. Ora chi arriverà? La fata turchina, il grillo parlante? Il mio lavoro è fare le cornici, è 32 anni, faccio cornici e a 55 anni si fa cornici. Pinocchio è stato un po' un balocco, proprio veramente partiti per gioco e è diventato un impegno abbastanza pieno come tempi. Mi piacerebbe, di verità non lo so. Diciamo una cosa, facciamo una sfida, ma insomma una proposta. Te lo farai dire quando avrai costruito il grillo parlante, una fata turchina. Sarete il primo a annunciare la cosa, va bene? Grazie, grazie mille. E cosa diciamo allora? Bene, abbiamo finito, arrivederci alla prossima puntata di Caffè di Sipario. Grazie, buonasera.